ciao ragazze io sono ross e oggi sarò la vostra coach ci concentreremo sui glutei in particolare esercizi per la cellulite iniziamo ok ragazzi iniziamo il timer è già impostato 30 secondi di lavoro 10 secondi di pausa per 12 round e ora imposto anche il mio samsung gear ve l'ho mostrato in un vlog vi lascio qui sotto il link nell'infobox in questo modo segnerò anche le calorie ok primo esercizio è questo mani dietro la nuca e spingo indietro i glutei e la schiena dritta dopodiché squat laterale inizio squat laterale e di nuovo e alterno le gambe sono leggermente piegate quando eseguo il quick morning ok ora i 10 secondi di pausa e mi preparo per un altro esercizio che eseguirò prima con una gamba e poi con l'altra knee up e spingo indietro piede martello la schiena è dritta e di nuovo knee up spingo cerco di non toccar terra con il piede equilibrio posso prendermi anche una sedia ok ora lo eseguo con l'altra gamba respiro mi aiuto anche con le mani ok ora scendo plank addome contratto rimango e frog squat e da qui appoggio le ginocchia e donkey kick di nuovo in plank di nuovo in plank ok ok in appoggio sulla schiena in appoggio sulla schiena eseguo lee bridge con una sola gamba prima sempre con una e poi cambio con l'altra spingo su contrago bene i glutei piede a martello piede a martello respiro ok ora prendo fiato e cambio gamba mi preparo già spingo dai dai respiro respiro ok e adesso tutto da capo mani dietro la nuca good morning squat laterale e ricomincio respiro respiro ok Dai ragazze, respiro, ok, mi concentro, prendo il ritmo. Piede a martello, e ok, cambio gamba, knee up, e spingo indietro. Ok, ora giù, plank. Rock squat, plank di nuovo, quadrupedia, donkey kick, e alterno, plank, e ricomincio. Ok, da qui scendo, scendo agli ultimi due esercizi che poi in realtà è uno solo, cambiando gamba. Single leg hip bridge, su, contraggo bene i glutei, spingo verso l'alto. Spingo. Spingo. Ok, cambio gamba. Forza ragazze. Ok. 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 ok e stop abbiamo finito adesso facciamo un pochino di stretching insieme tengo ora stendo una gamba l'altra rimane piegata al petto e cambio ok mi alzo su su un lato poi mi siedo e mi metto in cial pose in ginocchio talloni ai glutei e stendo stendo le braccia tiro 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 bene ok risalgo bene ragazze abbiamo finito il workout eseguite questo workout da solo o in abbinamento ad un workout per una categoria like se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati e noi ci vediamo nei prossimi blog o workout ciao